Benvenuti a tutti ragazzi e bentornati con Pia di Tobi, sono sempre il vostro Mecca e oggi siamo qui in un nuovo video spacchettamento ragazzi ovvero è uscita finalmente il nuovissimo set team tag di Wylord ragazzi mamma che roba ragazzi, eccolo qua, vi faccio vedere qua in tutto il suo splendore allora ragazzi, io non vedevo l'ora che usceva questo set perché da oggi e fino a non si sa quando sarà il primo set che introdurrà le tag team in Italia e in tutto il mondo ragazzi quindi nuovo tipologia di carta e di gioco secondo me perché come tag team il fattore tag team è molto particolare adesso andiamo subito a vedere il perché e a vedere cosa contiene questo bellissimo set ok ragazzi, quindi qua sotto abbiamo un bellissimo set con scritto collezione Splash Anomalo GX ragazzi allora, che dire, molto molto bello questo set è veramente fighissimo, l'immagine ovviamente della carta è stupenda ovviamente se non sbaglio è stata disegnata dal nostro Arita quindi vabbè, lo conosciamo praticamente tutti allora la confezione è diversa perché c'è un po' di giallino qua per quale motivo? Perché le tag team ragazzi hanno delle parti in giallo disegnate ma prima di andare a vedere la carta andiamo a vedere la confezione e il tutto allora qua in alto a sinistra c'è scritta una cosina include una carta promozionale olografica alleate di Magikarp e Wilder GX che sarebbe la famosa tag team questa cosa ormai l'ho detta fin troppe volte direi di andare dietro a leggere la collezione Splash Anomalo GX del GDC Pokémon contiene una carta promozionale olografica alleate di Magikarp e Wilder GX una carta gigante olografica alleate di Magikarp e Wilder GX 4 bustine di espansione di GDC e la carta codice ovviamente per sbloccare il nostro Wilder per cui abbiamo Magikarp e Wilder uniscono le forze i Pokémon piccolo e i Pokémon grandi missioni hanno stili molto diversi ma quando fanno squadra non ce n'è per nessuno questa cosa... vabbè questa fantastica collezione magica di Wilder fa una coppia in una carta alleati quindi tag team in inglese, alleati in italiano ovviamente alleati fa schifo, cioè io dirò sempre tag team la combinazione dei loro poteri metterà a dura prova il tuo avversario che va a vedersela con una potenza fuori dal comune assisti a questa incredibile dimostrazione di gioco e di squadra aggiunge il potere della carta alleati Magikarp e Wilder GX alla tua raccolta ok ragazzi, ci sta come cosa ci sta? perché vi spiego una cosa andiamo ad aprirla le tag team che abbiamo visto qua per ora c'è solo questa qua in Italia ma già sono da uscite spoiler di un sacco di carte e tra l'altro ci saranno delle... quando uscirà l'espansione le carte tag team quelle fuori serie speciali ovvero, praticamente in questa confezione abbiamo un Magikarp che praticamente sta per essere mangiato da Wilder invece nella espansione che dovrà uscire il Magikarp non verrà mangiato da Wilder ma verrà spruzzato dal buchino che c'è sopra ovviamente ogni balena ed è un'esclusiva ed è diciamo secret questa è una cosa che dicendola così è un po' difficile da capire ma quando uscirà l'espansione vi farò vedere magari qualche immagine tra l'altro ce ne sono tantissime i tag team Mimikyu con Gen... con Gengar poi ce ne... cos'è? Venusaur con Celebi ne hanno fatti veramente tantissime o veramente tante tutte spoilerate però non so quando... non so dirvi quando usciranno in Italia ok andiamo ad aprirlo qui davanti abbiamo il nostro Wilder tiriamo su ce la facciamo? ok prendiamo le bustine il codicino la carta gigante e andiamo a estrarre la carta piccolina ok ragazzi qui abbiamo il tutto ovvero il nostro bellissimo codicino ovviamente per sbloccare Wilder e Magick Up Tag Team io non so se questa Tag Team si gioca o si giocherà non so dirvi nulla ancora perché secondo me è un po' troppo presto ma sicuramente come mazzo for fun sicuramente qualcuno l'avrà fatto allora ragazzi andiamo a vedere questa bellissima carta già come potete vedere ci sono due o tre piccole caratteristiche diverse prima di tutto questa bella scritta sovrapposta quindi Magick Up e Wilder GX i punti vita che questa è la prima carta ragazzi originale ricordiamo perché ci sono veramente tanti fake con scritto 3000 punti vita 300 che non esistono prima carta con 300 di punti vita e prima carta con i bordi gialli i bordi gialli ragazzi è perché sono delle Tag Team quindi in alto a sinistra e in basso a destra e in basso a destra c'è una piccola regola che hanno voluto aggiungere per il fattore Tag Team regola degli alleati quindi regola dei Tag Team il tuo avversario prende tre carte premium per ogni volta che i tuoi alleati vengono messi K.O. quindi per ogni volta che una carta Tag Team viene distrutta o uccisa l'avversario si prende ben tre premi non due come le GX e le X quindi ragazzi giocate bene la vostra Tag Team perché se ve ne distruggono due avete praticamente perso la partita sicuramente uscirà un mazzo combo dove dirà se tu distruggi un alleato prendi il doppio dei premi quindi se tu distruggi una Tag Team ti prendi ben sei premi quel mazzo sarà già scrauso il mazzo più forte e devasto ok ragazzi andiamo a vedere la nostra carta questa è la carta Jumbo ovviamente magica per Wire or GX punti di vita 300 tutta d'acqua con 5 energie d'acqua super splash 180 in giocabile vabbè abbiamo già capito che è in giocabile ragazzi andiamo a leggere il bellissimo attacco GX se questo Pokémon ha almeno 7 energie extra assegnate in aggiunta a quella del costo dell'attacco quindi 7 più un 8 questo attacco infligge 100 danni a ciascun Pokémon nella panchina del tuo avversario cosa? cioè ragazzi è fortissima ma l'attacco praticamente quasi ingiocabile perché come fai ad avere 8 energie attaccate a un Pokémon cioè vuol dire che per 8 turni tu devi sopravvivere cosa quasi impossibile secondo me poi oh se ce la fate tanta roba ragazzi questa è la carta Jumbo andiamo a vedere la carta piccolina eccola qui quindi la carta normale che dire bellissima secondo me queste sono carte da collezionare soprattutto le tag team non dico di collezionare tutta la serie perché la serie come ben sappiamo è molto difficile molto lunga tra comuni e reverse che io non capisco per quale motivo in Italia esistono le reverse ma potete fare solo una normale e basta no comune e reverse secondo me collezionare 4 per tipo di ogni tag team sarebbe veramente bello ragazzi bell'album uscirebbe veramente una bellissima collezione ok e questa è la nostra carta normale che non sto neanche qui a leggervi perché ormai l'abbiamo letto e poi abbiamo i nostri 4 pacchetti come nella descrizione e cosa abbiamo abbiamo due di tuoni perduti tempesta astrale e guardiani nascenti cos'è che manca ragazzi vediamo se vi ricordate cosa manca evoluzioni se ne è andata via o sono finite non lo so ma meno male perché io mi ero stancato di aprire evoluzioni li odio meno male che non ci sono più l'idea di partire dal più vecchio al più nuovo anche se non si dice perché però andiamo ad aprire ok ovviamente al suo interno c'è sempre un codicino 1 2 3 4 1 2 non ci credo ragazzi abbiamo trovato una GX raga non ci posso credere cioè non ci credo è impossibile Litwick On Punch Man io questo lo chiamerò sempre On Punch Man Snorant Cast Form One Light Energia Psico Watchog Barella Sudowoodoo Sligo e Toxapex GX normale ragazzi Toxapex GX non è male ne ho veramente una caterba questo farà caterba più uno perché Toxapex però vabbè ci sta è molto figo lo giocavo avevo fatto il maxo per Toxapex con i veleni cioè facevo tanti di quel danno a turno che non mi potete immaginare ebbene sì andiamo con quello di tempesta astrale 12 1 2 3 4 1 2 ovviamente non abbiamo trovato un bel nulla Snizzle di Neogenesis Wishmash Mud Keep Energia Fuego Volbit Combaskan Minum Torre dei Cieli e una bellissima rara di Registil bella questa immagine non è male Torre dei Cieli viene giocata nel mazzo quello dove si gioca l' Unknown dove vinci con 35 carte in mano io mi sono fatto quel mazzo ragazzi non mi potete capire quanto è divertente pescare tonnellate di carte per turno andiamo con tuoni perduti datemi un Zoraora attenzione c'è un'altra GX ragazzi non ci posso credere Trico Censi Picarisu Poplio Spinarock Energia Fuego Acqua Lampet Sableia Pozione Elettro Meloetta e Lugia GX ragazzi allora se incominciamo così con i nuovi set attacchi team mi piace perché c'è sempre dentro una GX a quanto pare no scherzo non è vero ragazzi va solo fortuna ok raga ultimo pacchettino ultimissimo pacchettino e poi tanta roba no nulla purtroppo ragazzi e qua niente Wismax Stormfish Larvita Lake Twink Ciccorita Energia D&N Borsa Skipon Azumari Ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto tag team tanta roba alleati in italiano non si può sentire primo set e abbiamo già trovato due GX Wild Lord tanta roba e ok ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando se non mi ha piaciuto iscrivetevi e noi ci vediamo un po' il suo spacchettamento pokemon delle tag team speriamo o del nuovo box della nuova espansione più che altro beh raga grazie